La boga è una specie estremamente diffusa lungo le nostre coste, la troviamo anche spesso al mercato. Spunta a prezzi molto bassi e questo direi che è un motivo che può spingere al consumo, a comprare al consumo della boga. E' una specie gregaria, si avvicina alle coste ma direi durante tutto l'anno. Ha delle carni ottime, purtroppo non sempre apprezzate. Raggiunge anche 30 centimetri ma normalmente la troviamo intorno ai 20-25 centimetri sui banchi dei nostri pescatori, catturati dai nostri pescatori. E' una specie che ha un prezzo estremamente estremamente basso, quindi un motivo a più per consumare la boga come tanto altro pesce cosiddetto povero che fa bene alla nostra salute ma fa bene anche alle nostre tasche.